Le novità sono interessantissime perché la rete di partner si ampia, quindi la manifestazione diventa un qualcosa di sempre più condiviso. Per quanto riguarda i giovani, verranno esposti 15 dei ragazzi partecipanti alla seconda edizione del premio GXC Giovani per la Ceramica. Sono ragazzi molto in gamba, ragazzi che si sono confrontati su tre temi. Il tema del concept innovativo premio Giancarlo Ciannella, il premio aderenza alla tradizione castellana premio Serafino Mattucci e il premio per l'arditezza tecnica e l'industrializzazione premio Camera di Commercio del Gran Sasso. Abbiamo dei lavori davvero interessanti, abbiamo l'occasione di far conoscere questi giovani al mondo, perché noi nel nostro piccolo facciamo vedere cose che speriamo che poi riecheggino, riverberino nel resto del territorio. Quindi ci attendiamo una bella edizione. Da sempre il nostro interesse per Castelli è stato contraddistinto da iniziative molteplici. In questi giorni abbiamo visto Visit Castelli e quindi le residenze d'artista, e quindi molteplici iniziative che vanno a valorizzare quella che è la tradizione castellana, ma anche a cercare un'innovazione che possa condurla a confrontarsi con successo con il mondo e anche con panorami produttivi che aprano nuovi mercati ai suoi artigiani, alle sue aziende. Questa iniziativa in particolar modo c'è cara non soltanto perché sottolinea il ruolo dei giovani nella reinterpretazione di Castelli e della tradizione castellana, ma anche perché attua pienamente i principi della sussidiarietà circolare e quindi enti pubblici, enti del terzo settore e popolazione che si uniscono in una corresponsabilità sia nella fase progettuale che nella fase esecutiva. Ed è questo che secondo noi costituisce il vero successo di qualsiasi iniziativa, la condivisione con la popolazione e con la società civile appunto tutta di qualsiasi progettualità che vada a reinventare e potenziare quelle che sono le attitudini di un luogo.